Belli rega, in questa parte ci troviamo a Spiraria per fare un po' di soldoni Ebbene sì, quindi dirigiamoci verso il mare blu Ovviamente ho ripreso Wildmare perché ha sub Piazziamo un bel repellente Max e facciamo sub Perché facciamo un bel po' di soldoni? Perché in queste acque, in cui se ben mi ricordo avremo un tempo per starci sotto Non possiamo starci per tanto tempo In queste acque si troveranno, vette anche rovine degli abissi Si troveranno un bel po' di tesoroni Una volta entrati si sentirà click E avremo un tot di tempo per esplorare questa cava No, questa cava, questa Questa Oddio, come si chiama? Questo posto, insomma Dove si troveranno oggetti come L'astro a ferro, ma non è questo che mi interessa Ducata antico, ecco Già va molto meglio Questi se li vendiamo al tipo che c'è a Spiraria Ci dà tanti di quei soldi da farci diventare ricchi in tre secondi Però, come potete vedere, rumore sordo vuol dire che tra un pochino finirà il nostro tempo a disposizione L'astro a timore, ma perché trovo solo lastre? Ho bisogno di soldoni Proviamo ad andare di qua No, così mi sa che torno indietro Va bene Ok, rientriamo Il solito click Vediamo, la strada è obbligata Obbligata Fino a qui Andiamo ad andare sopra adesso Sempre sopra Fammi andare sopra Voglio andare di sopra Perché non mettete oggetti? Mi sembra che ci fosse qualcosa Ah, ecco nell'Iuno Dai, cos'è? Solda antico Buono anche questo Anche lì ce n'è uno Come ci si arriva? Fammi stare, fammi stare Lastra saetta Io non ho ancora capito cosa sono ste cose Boh Vabbè Su di qua ci sono già andato? Sì Faccio sempre lo stesso giro, mi sa No No, di qua non ci sono andato È finito il tempo No, è quasi finito il tempo Non ancora Mi fai andare a destra Vaffanculo Siamo ritornati sopra Come potete vedere Usiamo di nuovo sub Riscendiamo Rovine degli abissi No ma c'è Ci deve essere una specie di trucco qualcosa Perché Ma che ne so Boh a me quelle cose lì viola mi puzzano Dobbiamo andare di sotto Questa volta Vedete come faccio io ad andare di là Mi sento trollato Oh Abbiamo trovato una strada nuova finalmente Statua antica Pokeball con dentro delle statue Vai così Ok Lastramente Che palle ste lastre Totalmente inutili Là ce n'era un altro ma non so Come ci si arriva Dai No Ah no Ok ho ancora tempo Perché c'era questo Lastra Bacca Merda Basta Con ste lastre E' finito anche questo Allora facciamo altri due giri E poi dopo andiamo a vendere Quello che abbiamo trovato Olè Sarebbe la barza per un tempo infinito qua dentro Oh Ah Prima siamo andati di sotto Giusto Niente Uffa Trovavo tante di quei tesori Quando ci ho giocato La scorsa volta Che ho finito il gioco Dove sono finiti? Si sono volatilizzati nel nulla Quindi lì ce n'è uno Ma come ci si arriva? Boh Bisognerà passare attraverso le pareti Ma non se puede Questo? Dobluna un tipo No 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 È proprio adesso Comunque penso di aver capito la strada Usiamo di nuovo sub Quindi bisogna andare Sì 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 Forse ci siamo Forse ci siamo Ci facciamo un bel po' di soldo Non so se si rigenerano gli strumenti Perché poi è impossibile che vengano finiti Secondo me Dai No Perché? Non era di qua la strada Ah no Prima di qua Ecco Poi giù No Poi su E poi a destra Non ora Ora Dai 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 Giù E qui ce n'è uno Doblone antico Poi Anche qua Lastra pugno Palle Palle Stelastra Finito Ah no Il rumore sordo è vicino Fammi prendere l'ultimo No dai Vabbè Andiamo a vendere gli strumenti Forza Vediamo quanto ci danno Questi signorotti Eccolo là Eccolo là Il miliardario Sì che ce l'ho Andiamo su Allora Doblone antico Ci dà 10.000 Un altro Doblone antico Ci dà altri 10.000 Statua antica Ci dà 200.000 Se ve ne rendete conto Soldo antico Ci dà solo 1.000 Però se abbiamo fatto 200.000 200.000 Soldi Pochissimo Ok abbiamo finito Gli strumenti Dali Come potete vedere È abbastanza utile Ora Cosa bisogna fare qua Niente Anche perché Non mi va di batterli Cioè Lì ogni giorno Arriva un membro Della famiglia nuovo Che vi vuole battere Se volete Qui intanto C'è una gran pepita Una città ricca Signori Questa è una città ricca Comunque Abbiamo finito Per oggi Nella prossima parte Molto probabilmente Andremo a battere Camilla O almeno andremo a provare A battere Camilla Che è molto forte Quindi Aspetto che mi piace E belli rega